Buongiorno dai canali social di Per Sempre Napoli. Siamo in diretta a Facebook per il format 11 minuti con. È stata una cosa pensata in queste ultime ore per commentare la decisione da parte del sindaco Luigi De Magistris di non candidarsi alle regionali. Ovviamente il nostro ospite gradito non poteva essere che Luigi Roano al quale rivolgiamo i nostri saluti e gli chiediamo un'opinione subito immediata sull'evento. Intanto buongiorno a tutti e saluto a te Carlo Renato. Un'opinione su questo fatto. Credo che tutto sommato era un po' scontato perché negli ultimi giorni soprattutto si è capito che il sindaco con i suoi giri romani stava cercando di capire l'aria che tirasse intorno. Va bene? E alla fine diciamo che la sua scelta condivisa anche con il fratello va nella direzione in cui lui stesso dice di scegliere Napoli. Però Renato io dico che l'ultima data utile per presentare la candidatura è il 24 luglio se si intende fare l'elezione dei. Credo che il sindaco abbia detto che oggi non si candiderà oggi. Però io fino al 24 luglio mi lascio una porticina aperta per questa cosa. Vabbè certo. Senti, leggo dal comunicato che poi ci ha inviato l'ufficio stampa del comune, dal suo portavoce Mimmo Annunziata. Lui dice praticamente che ho scelto Napoli e in sintesi dice che ho scelto Napoli, ho scelto la città, metto da parte le mie legittime ambizioni, diciamo pur lasciandogli la porticina aperta. Sono giuste le motivazioni che lui sta portando avanti? Guarda Renato, io da un punto di vista strettamente formale e dialettico sono parole molto belle. Però io e te sappiamo benissimo che poi la politica è molto liquida, la politica è anche vivere, la politica è restare nel giro. De Magistris fa dieci mesi, esce nel 2021, non potrà più ricandidarsi al comune di Napoli. Ha davanti a sé questa scelta difficile che ha fatto oggi, almeno per oggi, di non candidarsi alla regione oppure aspettare che si voti per le politiche. Stare due anni fermo non è certamente una cosa semplice. Certo può partecipare alla scelta, alla campagna elettorale per il futuro sindaco di Napoli, staremo a vedere come andrà a finire. Credo che sia il 50, 60, 70% sia chiusa questa partita della candidatura. Però io mi riservo lo spazio là perché io non vedo, lui vuole fare il politico, non vedo futuro politico se si salta un giro per due anni e si scompare dalla piazza. È che è questo che non riesco a spiegarmi. Certo, certo. Senti Luigi, una domanda diciamo sporce spontanea. Perché oggi? Perché lui aveva dato una data di orientamento che era il giorno del suo compleanno, che sappiamo che è il 20 giugno. Perché oggi? Come se avessi voluto accelerare i tempi. Perché sì. Prego, prego, scusami. No, no, è finito. Guarda, io ho una mia idea, torno a ripetere, è una mia ipotesi. Io il 22 c'è la direzione provinciale del Partito Democratico che poi alla fine sarà uno Stato generale, almeno l'inizio, uno Stato generale della coalizione che appoggerà De Luca. E credo che gli abbiano detto da quel campo di arrivare, di decidere presto per arrivare, insomma, non avere un tavolo con su questa grossa, grossa incognita. Perché va detto che Temagis in campo candidato, terrorizza e fatica a Napoli molto, molto, molto marginale. Che De Luca è un conto e il PD è un altro. La sostanza, caro Renato, è questa che secondo me il sindaco non ha voluto chiudere definitivamente i ponti con il centro-sinistra allargato di Zingaretti. Mettersi e candidarsi contro De Luca significava questo, mettere una pietra tombale su questa parte politica che comunque sta a lui a cuore, visto che dai 5 Stelle non arriva niente. E credo che la scelta, la tempistica sia proprio questa qua, anche per dare un messaggio ai consiglieri comunali per fare questo documento di programmazione di fine consigliatura condivisa e arrivare con una certa tranquillità al 2021. Credo che lo scenario sia questo, almeno oggi. Sì, va bene, lui negli anni scorsi sappiamo benissimo che gli scontri verbali anche abbastanza forti con il PD che in quel momento era rappresentato da Matteo Renzi. Poi dopo di che c'è stata la svolta di Gentiloni al capo del governo e quindi come se i rapporti si fossero rappacificati. Ti dico però come rapporti con il PD nazionale perché praticamente con il PD locale lui non ha mai avuto, ha tentato di costruire dei ponti ben salvi. Ha sempre cercato di mantenere la distanza creandosi il suo ruolo, ritagliandosi il suo ruolo in una sinistra che non è quella del PD. Sì certo, ma il tema è che il PD a Napoli è stato battuto due volte da De Magistris e gli stessi che stanno in consiglio comunale e gente che ha perso con De Magistris e quindi un po' di livore è rimasto e non se ne andrà via mai, anche se stanno cambiando un poco. De Magistris però ci ha messo del suo perché io penso che una figura istituzionale non possa ignorare un partito che viene da una tradizione molto importante. Però io sottolineo ancora, a Napoli negli ultimi dieci anni, alle amministrative dove si contano veramente i voti perché si vedono i voti e le persone che stanno in campo, raramente ha sfondato il 10%. Quindi parliamo di una forza marginale o poco più. Ecco la scommessa, secondo me, di una delle scommesse di De Magistris in questo periodo è di fare questo ponte con questo centro-sinistra e sperare che accada qualcosa di qui a poco. Senti, anche il PD in consiglio comunale sta perdendo pezzi, anche pezzi abbastanza importanti, quindi di conseguenza si ritrova svilito nelle sue unità, è diminuito e comunque con una capacità politica certamente ormai di secondo piano. Quindi in questo momento a livello locale non può dire nulla. Bisogna anche, secondo me, capire se il PD poi sostanzialmente appoggerà De Luca. C'è una bella domanda, caro Renato, non è semplice, più che 11 minuti ci vorrebbero 11 giorni per fare questa cosa qua. Sono tutte cose giuste che io condivido pienamente. Là ci sono tre cose, tre PD nel PD, ammesso che De Luca sia uno del PD. C'è De Luca che in questo momento qua ha avuto una grande, grande fortuna, una bolla, quella del Covid. Fino a quattro mesi fa De Luca era un grossissimo peso sullo stomaco del PD, del centrosinistra, anche di certa sinistra pelosa che adesso fa da scendiletto al governatore, e fino a quattro mesi fa invece voleva in qualche modo cacciarlo in malo modo. E questo è De Luca. Poi ci sta un po' di regionale che è assorbito dalla figura di De Luca, ma che non è allo stesso tempo elettoralmente così vasto, e ci sono PD cittadino che è ancora più scadente da un punto di vista numerico e non me ne vogliono i nostri amici consiglieri comunali, anche qualitativamente. E infatti è allucinante che un partito di governo che ha De Luca che rischia di vincere di nuovo le elezioni, in consiglio comunale contestualmente perde tre consiglieri, cioè due consiglieri. E mi pare che sia una cosa veramente sconvolgente, che è testimone di come dentro questa formazione politica non ci siano idee chiare, nonostante Marco Saracino stia provando a ricostruire sostanzialmente un'anima, uno spirito, un partito, girandosi più verso sinistra. E il suo problema oggi è a De Luca, questo è il paradosso. Sì, infatti, perché sembra dal linguaggio di De Luca, da ciò che dice, cioè lui non mostra alcun interesse a coalizzarsi con il PD, pur essendo lui venendo dal PD, ma sta dimostrando di non avere proprio alcun interesse. e questo potrebbe giustificare anche la mossa del sindaco Luigi De Magistris su prendere distanza per ottenere poi qualcosa. Sì, avevo della musica in sottofondo, non riuscivo a sentirsi bene, Renato. Sì, è proprio così, anche perché De Luca si candida con una lista sua. Alla fine lui non si candida, è appoggiato dal PD, ma si candida con una lista sua. Anche la fotografia di oggi che è apparsa sul mattino di lui con il figlio e Zingaretti, onestamente è una fotografia che racconta di un modo vecchio di fare politica, cioè le dynasty familiari che a molti dei giovani non piacciono. E' un problema per il partito di Napolitano e De Luca. Perché hai detto tu, giustamente, si parla di De Luca, cioè si parla di liste per De Luca presidente, per De Luca presidente. Lo sponto che ci sarà il 22 in direzione è proprio questo. Il PD non ha chi mettere in lista tutti quelli che portano voti. Se ne andranno con lui e con Campania Libera, con Tommaso Casillo, scusami, l'asse che dovrebbe portare De Luca al secondo mandato è formato da De Luca presidente con dentro tutti i problemi di trasformismo che stanno uscendo dall'ala sabraciniana del partito e poi da Campiana Libera con Tommaso Casillo che dovrebbe assormire un po' di moderati provenienti da Forza Italia, da queste zone qua, della politica insoddisfatti di quello che sta accadendo nel centro-destra. Senti Luigi, noi siamo in chiusura, però ti lancio una ipotesi. De Luca dovrebbe rivedere un po' il manuale Cencelli? No, lui lo applica perfettamente. Se lo rivede, scusate, non ce ne vogliono i nostri amici Demma, pure loro. Scherziamo. Stare al gioco scherziamo, però lui applica in maniera eccezionale questo manuale Cencelli, volgarizzandolo addirittura un po', perché poi alla fine le fritture di pesce... Sì, 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 allargando, diciamo. Allargando. Va bene, Luigi, grazie per essere intervenuto. Lo dobbiamo fare qualcosa, perché il centro-destra è un tema da sollevare. Lo so, ma il centro-destra fa notizia, non notizia, cioè nel senso che non vedo proposizioni particolari, però è da affrontare. Ma in questo momento mi sembra più un fantasma il centro-destra. Ma questo è un fantasma, ce ne dobbiamo sperare per il pluralismo e perché ci sia una campagna elettorale corretta che finalmente, anche nel centro-destra, esca fuori un candidato che sia quello e senza litigi... Va bene, cercheremo di sensibilizzare noi il centro-destra con questo 11 minuti colla. Grazie a Luigi Rovano, ci sentiamo alla prossima. Ciao. Grazie a te Renato, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti.